Procedura legittima, dice Bruxelles, ma chi deve trattare adesso del governo italiano? Conte Tria, Di Maio o Salvini? O il ministro per l'Europa che non c'è e che può essere nominato da un momento all'altro. In realtà tratteranno tutti, perché questa è una partita che si gioca su più piani. Del resto anche la Commissione europea gioca la sua ultima partita. Il governo italiano gioca la sua nuova partita e ognuno nel governo italiano gioca la sua propria partita. Perché ovviamente abbiamo visto nelle scorse settimane come il governo si è fatto sempre più da due istanze che combaciano molto poco, che si sono fatte asimmetriche anche dal punto di vista dei voti. Poi ci sono coloro che sono lì e non saranno in un altro governo, Tria e soprattutto Conte, che giocano a loro volta una partita. E la tregua durerà? Domani forse si incontrano Salvini e Di Maio. Io credo che ci siano, lo dico in ambito cattolico, però ci siano delle coppie che sono destinate a divorziare abbastanza fatalmente. Non so se poi ci sarà l'annullamento o che cosa, però dopo un anno non c'è chi non segue i lavori parlamentari che non si senta dire magari da un esponente della Lega, ma tra poco rompiamo e andiamo al voto perché così non si può andare avanti. Grazie.